Non si arrendano i soccoritori alle prese con le ricerche da 12 giorni dei quattro escursionisti dispersi sul monte Velino. Uniti per l'amore per la montagna Tonino durante 60 anni, Gian Mauro Frabotta 33, Gianmarco Degni 26 e Valeria Mella 25 sono scomparsi mentre erano impegnati in un'escursione sul Velino. Da 12 giorni in maniera ininterrotta i soccorritori stanno perlustrando, anche grazie all'ausilio di elicotteri del Sonal Recco e di Unità Cinofile, tutta la zona. Le ricerche di oggi si stanno concentrando nell'area di Valle Maielama, interessate dalle tre valanghe con l'impiego di 31 uomini del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia e dell'Esercito. I soccorritori hanno raggiunto la zona a quota 1.800 metri grazie a due elicotteri, uno della Polizia e l'altro dei Carabinieri decollati dal campo sportivo di Massa d'Albe. Una squadra composta da otto soccorritori è invece salita stamattina con gli sci a Valle Genzana, area meno estesa rispetto a quella di Valle Maielama. Nelle ricerche sono impegnati anche due cani dell'Unità Cinofila del Soccorso Alpino del Trentino e due sonde Reccomanuali. Si ricorda che Recco capta qualsiasi tipo di metallo, chiavi, cellulari, placche di abbigliamento d'alpinismo e altre tipologie di metallo, ma per ogni chiarimento conferma ci si deve rivolgere al soccorso alpino e agli altri soccorritori predisposti alle ricerche. Intanto la popolazione di Massa d'Albe offre cibo e ristoro per i soccorritori e si stringe attorno ai familiari e agli amici nell'allogorante ed esseno antiattesa.